come mi sento io la notte prima degli esami allora per lo scritto di italiano sono agitato perché so che vi conoscerò quindi il giorno dopo so che wow sarà il primo incontro e penso che dovrò vestirmi in una maniera consona all'evento però non troppo seriosa altrimenti vi metto paura poi so che di primo impatto così posso mettere un po' di paura e quindi cerco di andare con dei sorrisi proprio così buongiorno buongiorno poi vabbè il secondo scritto se sono membro esterno di lingue ho una paura folle di non riuscirvi ad aiutare nel modo giusto nei tempi giusti con le dovute precauzioni insomma nel senso che darvi le indicazioni giuste e così per quanto riguarda l'orale la mia preoccupazione più grande è quella di mettervi a vostro agio quello di di farvi una domanda che possa essere facile per voi no perché se sbagli la prima domanda io sto male peggio di voi perché quando vi vedo che vi faccio la domanda e voi così dico dio no 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 aspetta aspetta ci arriviamo e ci faccio arrivare insieme insomma ci arriviamo e ne parliamo però è chiaro che poi dopo non ci rimane male no perché dice cavolo non l'ho saputo quindi il terrore di farvi la domanda sbagliata è la cosa che mi mette più agitazione tant'è vero che di solito la notte prima degli orali io dormo pochissimo cioè vado giù di melatonina oppure oppure non riesco quindi ecco se mi incontrerete non quest'anno perché sono tutti membri interni ma se mi incontrerete i prossimi anni sappiate che io ho tanta paura quanto voi perché la cosa più importante in quel momento lì è che voi possiate essere messi a vostro agio per dare il meglio cioè di eliminare completamente la paura e la tensione perché altrimenti poi li andate in panico e scrivete dite cose che non vanno bene quindi se mi incontrate datemi una pacca sulle spalle ditemi dai prof dai che ce la fa dai ok comunque in bocca al lupo e date il meglio di voi stessi e anche io proverò a dare il meglio di me stesso questo è l'unico che l'unica promessa che ci possiamo fare bocca al lupo buona maturità grazie